Cominciamo ragazzi con il video dell'altra volta, quindi con la paginata, sempre nel nostro bellissimo libro di fisica, in cui vediamo l'equazione dell'onda, dell'onda armonica. Abbiamo visto che le quantità che ci interessano, tipiche di un'onda, sono la sua ampiezza massima d'oscillazione, la lunghezza d'onda, il periodo e la fase iniziale. Poi abbiamo visto tra l'altro che la velocità è il rapporto, la velocità di propagazione dell'onda, quindi la velocità con cui si muovono nello spazio le creste, ad esempio in avanti, è il rapporto tra la lunghezza d'onda e il periodo. Ovviamente la pulsazione e la frequenza dipendono solo dal periodo. La pulsazione è 2π diviso il periodo e la frequenza è 1 diviso il periodo. Tra l'altro vi dicevo una cosa molto importante, la frequenza, se uno la vuole misurare in un altro modo, può mettersi in una precisa posizione e contare da quante creste ogni secondo è colpito. Se ogni secondo viene colpito da 8 creste, la frequenza è 8 Hz. Ok? E' un metodo importante perché poi ci servirà per capire l'effetto Doppler. Ve lo continuo a ripetere perché l'effetto Doppler ha delle applicazioni bellissime e è molto interessante. Ma la lezione di oggi è semplice e si divide in due parti, qui farò due video. Uno in cui vi spiego da cosa dipende la velocità di propagazione, ovviamente, delle onde. Non parleremo mai della velocità di oscillazione della singola particella. Anche perché la velocità di oscillazione della singola particella, se voi ci pensate, non è costante, perché in un motore armonico la velocità non è costante, è a 0 negli estremi e massima in mezzo. Quindi sarebbe molto difficile. Invece la velocità di propagazione, di solito, a meno che l'onda non passa attraverso materiali diversi, non cambia. La velocità, ragazzi, dipende dal mezzo. Cioè dipende dal materiale attraverso cui l'onda viaggia. Come tipologie, per farvelo vedere, ne abbiamo tre. Adesso guardiamo la prima. Cioè, come dipende la velocità nelle onde elettromagnetiche? Beh, noi sappiamo già qualcosina, no? Cos'è che sappiamo? Che? La massima velocità qual è? È nel vuoto. Mi sono collegato ad un'altra pagina dello stesso libro, in cui vi mostro, beh, questa relazione voi la sapete già. Visto che la frequenza è l'inverso del periodo, dire l'onda fratto t o l'onda per f è la stessa cosa. È molto utile perché molte volte si utilizza. Beh, ovviamente, però noi dobbiamo guardare questa relazione qui. È una relazione che io vi avevo già scritto, adesso la zoomiamo. Ok? La velocità delle onde elettromagnetiche non è sempre la velocità delle onde nel vuoto, perché se non siamo nel vuoto, ecco, quindi bisogna fare una differenza tra V e C. Allora, C è la velocità della luce delle onde elettromagnetiche nel vuoto. 3 per 10 all'8, precisissimo sarebbe 2.999, quindi 3 per 10 all'8 metri al secondo. Tanto per capirci, la luce per andare da qua alla luna ci mette un secondo. Da qua al sole 8 minuti. La velocità nei mezzi diminuisce, è più piccolina rispetto a quella nel vuoto, perché la velocità nelle onde elettromagnetiche è C diviso un numero più grande di 1. E quindi ovviamente, ad esempio, se n fa 2, cosa vuol dire? Che la velocità in quel materiale è la metà della velocità nel vuoto. Se n fa 10, è 3 per dice la 7, cioè diventa 10 volte. Ci sono i materiali che arrivano a n uguale a 10? Informatevi. Perché io ho fatto una tabella dove riesco ad arrivare fino a 3,5. Qui ci sono dei materiali, ovviamente in una verifica sono tutti tabulati. Cosa dobbiamo ricordarci? Che se guardate elio, aree, in idrida e carbonica, praticamente l'indice di rifrazione vale 1. Quindi è come se fosse nel vuoto, ok? Quindi la velocità nell'aria, se noi facciamo 3 per dice la 8, va benissimo. Beh, se io invece ti chiedo la velocità della luce nell'acqua, non è 3 per dice la 8, sarà più vicino a 2 per dice la 8, perché bisogna dividere 3 per 1,33. C'è un materiale in cui la velocità della luce è più o meno 1 per dice la 8? Dove lo dovrei andare a cercare? È 1 per dice la 8 se n vale? Beh, se nel vuoto è 3 per dice la 8? 3. C'è un materiale che ha n uguale a 3, ma no, tra il diamante e il silicio, va bene, dovrebbe essere n uguale a 3. Quindi nel silicio e nel fosforo di gallio la luce è più bassa di 1 per 10 alla 8, ok? Basta? Tutto qua. Come cambia invece la velocità del suono? Il suono, qual è ragazzi la differenza sostanziale che c'è tra la luce e il suono? La luce non ha bisogno, non è un'onda meccanica, e in più è trasversale. Invece il suono è un'onda meccanica longitudinale, quindi è proprio il contrario la luce rispetto al suono. Quindi andiamo a vedere la velocità del suono, da cosa dipende. Allora, qui intanto vi faccio vedere una piccola tabella interessante, dove vi faccio vedere la velocità del suono in aria, quindi il materiale è sempre l'aria. Però attenzione, anche nell'aria, in funzione della densità e della temperatura, la velocità del suono cambia. Perché ovviamente, abbiamo fatto termodinamica, le particelle, se tu le scaldi, cioè se tu scaldi il gas, hanno una velocità quadratica maggiore. E quindi conducono meglio il suono, perché la loro velocità è maggiore, quindi anche la propagazione sarà maggiore. Ovviamente, se tu prendi a 0 Kelvin un gas, che non esiste perché diventa liquido e poi solido, comunque capite che non si può avere propagazione di suono, perché avresti tutte le particelle ferme, congelate, non si trasmette niente. Poi per il terzo principio non si può arrivare a 0 Kelvin, quindi un po' di suono c'è sempre. Comunque, notiamo che col gas più caldo, con l'aria più calda, aumenta la velocità. Noi quale valore useremo sempre? Di riferimento quello a 20 gradi Celsius, quindi 343, in realtà 343, poi vabbè 343.4 è un po' più preciso. Se noi dobbiamo ricordarci un valore di questi, ci ricordiamo 343. Se in una verifica non dirò nulla, e voi dovete calcolare la velocità del suono in aria, usiamo 343 e va bene. Poi, ovviamente, se non mette 340, non mi scandalizzo. Invece mettere 300 significa che noi stiamo valutando praticamente il gas, l'aria, a 0 gradi. Ok, quindi stiamo facendo esperimenti al polo nord invece che a Fiorenzuola. Beh, ma il suono non viaggia mica solo nell'aria. Il suono viaggia anche in tanti materiali. Tra l'altro viaggia non solo nei gas, ma viaggia nei liquidi e viaggia anche nei solidi. Allora, non c'è una correlazione, diciamo, di proporzionalità diretta tra la densità e la velocità del suono. Però, si può vedere un andamento comunque crescente, perché ovviamente possiamo pensare che più il materiale sia, è denso, più hai particelle che si scambiano l'informazione, giusto? Quindi, è logico che l'aria, essendo poco densa, trasmetta, qui sono tutti i valori a 20 gradi, infatti ritroviamo il nostro, nel 343 metri al secondo. È logico che, man mano che mi vai ad aumentare la densità, aumenti anche la velocità, di che cosa? Del suono in questo materiale. Vedete, nei metalli la velocità diventa molto alta, anche nel vetro in realtà è abbastanza elevata. Nell'alluminio notiamo che è il valore più alto che c'è in questa tabella. Ci sono anche dei valori molto bassi, ad esempio nel PVC, vedete la differenza tra il PVC morbido e il PVC è polivinil cloruro. Vedete la differenza tra morbido e duro, 80.700, poi uno può fare tantissime presentazioni di come si propaga il suono nei solidi, non è banale. Comunque vedete che l'aria è paradossalmente uno dei valori più bassi, perché l'aria appunto ha una densità molto, diciamo, minore rispetto a liquidi e solidi. Ci ricordiamo questo valore qui? 343 metri al secondo. Chiudiamo, ragazzi, la nostra presentazione per quanto riguarda la velocità, con una cosa di cui noi, che non dobbiamo confonderci. Allora, cosa significa, ragazzi, onde lungo una corda tesa? Perché un po' i molti ragazzi si sbagliano. Immaginate di attaccare al soffitto, che è questo, una corda. Ora, se tu appiccichi una corda così, è tesa? No. Quindi vuol dire che devo rendere la tesa. Come ad esempio faccio, come faccio a rendere la tesa? O la tiro, o ci metto un pesetto, così in questo modo la tensione che si sviluppa a sto filo è uguale alla? Alla forza peso, ovviamente, perché questo corpo, perché è in equilibrio, perché c'è la forza peso qui, c'è la tensione qui, quindi questo filo è bello teso. Ok? Quindi c'è una tensione in direzione verticale. Cosa succede, ragazzi, se io con un dito do un pizzico a questa corda? Comincia a vibrare e, tra l'altro, l'onda comincia a propagarsi. Ok? Poi in realtà andiamo a creare delle onde che si chiamano stazionarie, che in realtà non si propagano, ma è un'altra cosa. Però l'idea è che io posso creare un'onda come? Pizzicandola in direzione trasversale. Ok? Perché io sto oscillando in una direzione e l'onda viaggia nell'altra direzione. Ok? Quindi sicuramente vado a creare un'onda trasversale. Ecco, la velocità con cui l'onda si propaga, ovviamente in questa direzione qua, dipende solo da che cosa? Dalla tensione e anche da, quindi se metto un corpiccino che pesa di più, vado a cambiare la velocità, perché immaginate che la tensione sia proprio la forza con cui si tengono unite queste, con cui ogni particella tira rispetto all'altra. Ok? Come se fossero tante molle una dopo l'altra. E caratteristiche geometriche della corda stessa. E infatti vi mostro qual è la formula. E questo video è già finito. Allora, la formulina è questa. Ovviamente vi devo dire cosa sono queste quantità. Allora, la velocità risulta la radice. Non chiedetemi perché la radice lo si capisce all'università. Se ci pensate, anche nei gas c'era una velocità che andava come una radice. Quindi, che le velocità vada come una radice c'è un motivo abbastanza semplice una volta che viene capito. Cosa c'è a numeratore? La tensione. Che si misura in? Una forza. Newton. La velocità è metro al secondo. Allora, sotto c'è una lettera che si chiama ρ. R-H-O. Che in greco è la R. Che è la densità lineare della corda. Che cos'è la densità lineare della corda? L'ho scritto dopo. È il rapporto tra la massa e la lunghezza. Cosa vuol dire? Che se ρ fa 2, vuol dire che ogni metro di corda ha una massa di 2 kg. È la massa per metro di corda. Se ρ fa 0,2, cosa vuol dire? Che ogni metro di corda, se lo tagli e lo pesi, ha una massa di 0,2. Come si fa a trovare? Fai appunto la massa della corda diviso la sua lunghezza. E quindi proprio ρ è una quantità tipica della corda in sé. Per misurarlo bisogna quindi di una bilancia e di un reghello. È proprio una cosa molto semplice. ρ, quindi, è il rapporto tra la massa della corda e la lunghezza della corda. Quindi questa lunghezza e poi la massa di questa corda qui. Vi ricordo che, quindi, qual è l'unità di misura di ρ? Chili su metro. Perché noi pensiamo che la corda quante dimensioni abbia? Una, due o tre? In questo caso, una. Non ha una sezione, un volume. Pensiamo che sia monodimensionale, quindi facciamo M fratto L. E basta. Nel video successivo, invece, quindi cosa abbiamo capito? Che comunque, che siano onde elettromagnetiche, sonore o lungo una corda tesa, la velocità dipende soprattutto, beh, dipende sicuramente dal mezzo. Per le onde elettromagnetiche, dal materiale in cui viaggia, nelle onde sonore in cui viaggia, e anche perché poi l'onda viaggia nella corda. Una cosa importante. Se noi vogliamo creare un'onda sonora, ad esempio con una corda di violino, la corda di violino, e poi lo vediamo con la frequenza, mi crea un'onda, proprio la corda di violino vibrerà, perché la pizzico, con una frequenza magari di 220 Hz. E nel suono si propagerà a quale velocità, se siamo nell'aria? Alla velocità del suono. 343 metri al secondo. Ma una cosa, ragazzi, che tutti sbagliano. La velocità con cui questa onda si propaga nella corda, prima che faccia vibrare le particelle di aria, non è 343 metri al secondo. Si calcola facendo la radice di t fratto ρ. Quindi la stessa onda di suono che viaggia a 343 metri al secondo nell'aria, quando vibra nella cordicina del violino, non va ai 343 metri al secondo. Va alla velocità che è la radice della tensione su ρ. Come giustamente ci ha detto Chiara, c'era un giochino che facevano i bambini, con cui tu prendevi un bicchiere, poi ci attaccavi qui un filo? Sì. Facciamo il filo nero e poi di qua avevi? Allora, però qui c'era una cavità, c'era un buco, in cui ci mettevi l'orecchio. Allora, ragioniamo cosa succede. Quando tu parli, intanto il filo deve essere teso, perché se il filo non è teso, la tensione fa zero e la velocità fa zero, anche perché non si trasmette, diciamo, l'informazione. Se non c'è tensione, non trasmette niente. Quindi, vediamo fisicamente cosa succede. Allora, qui intanto tu ci metti la bocca perché devi parlare, immagino. E di là l'orecchio, eh? Quindi, qui ci mettiamo... Allora, la bocca cosa fa? Emette un suono. Il suono nasce nelle corde vocali che vibrano. Immaginiamo di creare un suono a 220 Hz, che si chiama la. Fai un la. E quindi le onde vibrano, attenzione, le corde vocali vibrano a 220 Hz. Ma si propagano lungo una corda tesa, perché anche le corde vocali sono una corda tesa alla fine. Poi, il suono ci trasmette all'aria. La velocità nell'aria va ai 343. Quindi, mentre il suono è qui, si propaga nell'aria. E va ai 343 m al secondo. L'aria va a far vibrare che cosa? Beh, prima magari il bicchiere, e poi è tutto trasmissione. E poi ha la corda. Attenzione. Nella corda, ci colleghiamo al video successivo sulla frequenza, ciò che rimane costante in tutte queste trasmissioni non è la velocità. È la frequenza. Perché se lei emette un la, io a casa, io dopo un chilometro voglio sentire un la. Altrimenti sento un solo, cioè, uno sento una canzone e di là ne sento un'altra. È la frequenza che non cambia. Quindi, la frequenza, se qui rimane a 220 Hz, anche sulla corda, la frequenza sarà 220 Hz. Ciò che cambia è la velocità. Perché la velocità sarà la radice della tensione fratto ρ. Ora, la tensione dipende da quanto tiri il filo. E ρ dipende solo da quanto pesa la corda e la sua lunghezza. Quindi tu potresti cambiare la velocità prendendo un filo più lungo. Perché la velocità diminuirebbe. Bene. Puoi calcolare la lunghezza d'onda. Perché qui la lunghezza d'onda del suono bisognerebbe fare, visto che è velocità per tempo, si potrebbe fare la velocità diviso la frequenza. 343 diviso 220. Qui, la lunghezza d'onda ti va a cambiare. Perché la frequenza rimane costante, ma la velocità non è mica 340 ms. Cioè, se tu fai... Se radice di t fratto ρ fa 343, sì. Però... Poi, cosa succede? Immaginate che, appunto, vibri un'onda trasversale. E poi? Questa viene trasmessa al bicchiere che vibra, che trasmette l'informazione all'aria. Quindi qui la frequenza è sempre 220 Hz. La velocità ritorna a essere quella del suono. Poi, qui ci metti l'orecchio. L'orecchio dentro di sé ha... Ah, vabbè, poi uno potrebbe farmi una presentazione. Ha una sorta di peletti, comunque, ancora una volta delle piccole corde, che mi vanno a leggere la frequenza. Ok? Quindi decodificano la frequenza e la fanno diventare un tipo di suono. Vedete il viaggio com'è? Cioè, non è banale ciò che avete fatto. E soprattutto, ripeto, la velocità nelle corde, anche se creano un suono, non avala velocità del suono. Quindi, ripeto,